Mary J.A.F.M.S Ehi, ciao! Tesoro, ciao tesoro, dimmi! Ma sei un po' giù? No, ma non hai alcun motivo per essere triste, sai? Come vedi, stavo sistemando un po' le mie cose. Dimmi, hai bisogno di qualcosa? Una chiacchierata o qualcosa? Ok, ok, ti senti un po' giù e hai bisogno di rigenerarti? Senti, che ne dici se facciamo un po' di cura del viso? Ho giusto in mano queste ampolle? Le ho appena prese dal freezer, sono freschissime. Sono freschissime, molto molto fresche. Che ne dici se le passo sul tuo viso? Sì, e magari dato che ci troviamo per tirarti su di morale, ti posso anche fare le sopracciglia e poi ti passo del siero sul viso, ok? Mi prendo un po' cura della tua pelle. Fa tanto bene anche alla psiche, sai? Prendersi cura di sé. Oppure che qualcuno si prenda cura di te. Vedrai come sarai cambiata di umore a fine trattamento. Semplici cose che ti possono rasserenare un po', eh? Non fare quella faccia triste. vuoi? Che suono leggiatro? Che suono perfetto! Che dici? ok piccola mettiti comodo si è seduta è cominciata la scuola lo so quando si comincia la scuola si pensa all'anno che si ha di fronte e si è un po' sia un po' incerti di quello che sarà però non ti preoccupare vedrai che andrà bene come tutti gli altri anni ok allora te le hanno mai passate queste ampolle sul viso? no allora adesso mi occuperò io di te ok allora chiudi gli occhi non pensare ora allo stress della scuola dell'anno nuovo che è appena iniziato non ti preoccupare le cose andranno bene o se non vanno bene si metteranno a posto io vado eh ok senti la bruschezza mi è ice club Ecco qua, subito sotto le occhiaie ti rigenerano queste ampolle, sai? Sì, io le chiamo ampolle, poi non so se il borbero nome sia questo, ti rigenerano, io sento la mia colore. Ecco qua, te lo passo proprio su tutto il viso, eh? Ho la gattina che sta iperattiva oggi, sta giocando tantissimo. Tenerla ferma oggi è possibile. Ok, vedi? La sensazione di freschezza fa stare subito meglio. Questa sensazione è sublime di freschezza. Puoi sentire che sono fa? Ecco qua! ti rilassano ma già sono pedelle sono bellissime non trovi? ok le abbiamo passate sul viso ora direi di farti le sopracciglia facciamo le sopracciglia ok? allora vediamo la forma ok hai delle sopracciglia perfette devo dire sì le tue sopracciglia sono perfette cioè posso fare semplicemente la pulizia e poi è una forma tua naturale si sono andali di gabbiano posso? ok ok Ciao Ok 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 Non credo di essere Non c'è molta pelura Molti peli da togliere Non ci sono Allora mi stavi dicendo sei preoccupata per la scuola? Ma no, tu mettici tutto l'impegno possibile Come hai fatto gli altri anni Non ti preoccupare, le cose andranno bene Le materie scientifiche ti preoccupano E me non mi piacevano Che voti hai lì? Ah, quindi la sufficienza ce l'hai? Beh, allora E' già tanto comunque Sapendo che sono materie che non ti piacciono No, va bene Ma si può incellere sempre dappertutto Certo, se si approvi dappertutto Ancora meglio, no? Una gran dota e una gran fortuna Però Anche là dove ci sono delle materie che non fanno per noi Però Diciamo che nella totalità Ci impegniamo Non vuol dire che Non siamo bravi, ecco A volte A volte una persona Crede di essere brava Solo se riesce ad essere Ad andare bene in tutte le materie Ma non è così Ci può stare che Che ci sia Ci sia uno o più materie che non fanno a caso nostro Per me è stato così quando andavo a scuola Dicevo No No, stai tranquilla Lo so, l'anno appena iniziato Però Hai tutto il percorso Da fare Però prendilo con positività Si, sei sempre stata brava E l'hai detto prima Eh, l'hai detto prima quindi Non ti devi preoccupare Ok Ok Le sopracciglia Sono perfette Già lo erano ora Sono ancora più belle Ok Poi Sempre per non pensare un po' alla scuola Ti faccio distrarre Bene Facendo di vedere questo siero E' un concentrato questo qui E' un siero concentrato E aspetta che ti leggo in italiano cosa c'è scritto Perchè qua ci sono varie lingue Perchè qua ci sono varie lingue Trattamento intensivo puro per il viso Per un effetto Antilughe Idratante Mediato la sua formula contiene due peptidi Che sviluppano Che sviluppano un'azione Mio rilassante E anche antilughe Modo d'uso applicare alcune gocce Per almeno un mese Alla mattina e alla sera Sul viso deterso E massaggiare delicatamente Da utilizzare anche sotto La propria crema abituale Prodotto cosmetico per uso esterno Beh chiaramente Beh è un prodotto antilughe Non che tu abbia bisogno Adesso Di un prodotto antilughe Perchè comunque sei giovanissimo Ma a scuola Con il resto per le rughe Però diciamo che questo è un pretrattamento Ok? Siete las que lato Non è il lato Siete le due Grazie. delicatissimo il suono canziaro ecco adesso andiamo ad applicare alcune voce sul tuo viso ok? ecco anche un po' è in odore proprio tranquillo come si era vado a massaggiarlo come va? ti senti più rilassata? si è bellissima questa sensazione è qui che sta promuente immagino a volte vorrei anche io qualcuno che mi massaggiasse il viso si che si prendesse cura un po' di me che mi massaggiasse la fronte, le tempie mi devo regare un po' presto a me in un centro estetico formico colore un po' anche io perfetto si diceva di insistere nelle zone dove si vanno a formare le rughe però non lo stiamo mettendo dappertutto si si bene ok come va? guardati allo specchio vedi? guardati le sopranciglie vedete se ti piacciono ti senti rigenerata adesso? un po' di più sono contenta tesoro sono davvero contenta che tu ora ti senta un po' bello non ti preoccupare la scuola andrà bene è normale avere questi pensieri ok beh piccola allora se vorrai tornare io ti aspetto di nuovo qua per farci due chiacchiere per qualcosa assieme tutto il caldo visto che ora arriva l'inverno ok oppure rifare il trattamento quello di oggi beh allora grazie grazie per avermi dato la possibilità di occuparmi di te oggi ciao piccola ciao